Il mezzo passo falso degli Umbri rilancia il Chievo che in classifica affianca il Genova Vittorio Soieri. Il primo gol giunge al ventunesimo in mischia sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Sulla palla si avventa Cossato ma è forse un difensore a dare il colpo risolutivo. Un minuto e la Lucchese pareggia grazie a un penalty che Bomber Paci, 15 centri per lui finora in campionato, non fallisce. I veronesi tornano in vantaggio alla mezz'ora con un gran tiro di Bacin e proprio in chiusura di tempo ipotecano la vittoria con il rigore di Cerbone.